Posso sapere che ne pensa della Ternana vista a Bolzano? La Ternana è uno squadrone la Ternana, si è andata solamente sentandino un po' in ordine Ancora non ci siamo Ancora no, ancora manca qualche pizzichetto di qualche cosa Però la volontà ci sta, quindi quanto prima speriamo che ci andiamo Il Presidente è forte, quindi c'è problema Buona giornata La Ternana pareggiata a Bolzano 0-0, lei è contenta di questo pareggio? Sì, sì, sono contento, sono contento E' so' punti no? Per vincere ci vogliono i punti e basta, si può fare diversamente Secondo me la squadra ha fatto un po' poco però, oppure dice Vabbè ma è lungo il campionato, farà in seguito, io sono molto fiducioso in questa squadra Il Presidente del pareggio della Ternana a Bolzano? Beh contento uguale insomma, tutto sommato, io ho visto gli ultimi eventi Mi sembra che l'ha presa bene no? E che dice, fiducioso? Non sarei più contento se vincesse ma Mi chiesto può sempre vincere, un pareggio è bene Parola sulla Ternana che ha pareggiato a Bolzano Ho visto, sono contento per questo, sono contento Però purtroppo non vado a vedere più la partita da parecchio tempo Però ha vista in televisione? No, non ce l'ho, non ce l'ho L'ho sentita, lo vedo su telegiornale, su cellulare Mi dispiace perché di fatto ci sto a pensare a vedere un'altra volta la Ternana È domenica, domenica col coppia Lo so, lo so, lo so Ci vediamo allo stadio domenica Speriamo che sì, grazie Una battuta sulla Ternana, come sta andando? Che ne pensi? Per me sta andando bene Poi vedremo prossimamente il tempo di vedere il lavoro del nuovo allenatore Dare tempo, dice lei Dare tempo, sicuramente Pareggio di ieri? Di domenica? Poteva andare meglio ma va bene anche un pareggio Parola sulla Ternana, che ne pensa del pareggio a Bolzano? Come l'ha vista? Io sono al miratore dei Lucarelli Quindi cambio allenatore ci sono rimasto male Ma a prescindere da questo Vediamo come va nelle prossime partite Potenziale c'è Cambio Falletti-Paghera, allora Destuzio Se sei un ammiratore dei Lucarelli, Lucarelli un pezzo l'avrebbe fatto No, non credo Però se cambia l'allenatore Certe cose in campo poi devono cambiare per forza Lì non si scappa E' vero che Andrea Zoli comunque penso sia più esperto dei Lucarelli Magari c'ha l'occhio più lungo Vedremo alla fine della stagione Grazie Prego Nonna Bolzano, questo 0-0 che fa discutere il cambio Falletti-Paghera Come l'ha vista? Ma io sono sincero, l'ho vista a tratti, bene in fase difensiva Scambio Falletti-Paghera, ci potrebbe stare come non ci potrebbe stare So sincero, non lo so Lore, cioè non so che dirti Però i cambi sono questi, i giocatori sono questi Non ci sta il sostituto naturale Falletti? Sarà il Moro però, la mette Palumbo, Cassata Sì, va bene, è vero, però potersi pure che Andrea Zoli dice Voglio rendere partecipi anche i giocatori che non hanno mai giocato fino adesso È vero che Paghera non è Raul Moro però, non lo so Non so, so sincero che dirti Secondo me ha sbagliato, però allenatore Andrea Zoli non so io Dai, la parola sul pareggio della Ternana a Bolzano Che ci dice mister Di Martino, allenatore di lungo corso? Secondo me molto bene, fammo del chiacchiericcio ma in altre condizioni In queste partite le avremmo perse, invece stavolta abbiamo preso un punto Con le difficoltà che c'è in questo momento il nuovo allenatore Ma con tanto rispetto anche per quello che ha fatto Lucarelli per carità Però io reputo che è un buon andamento Se Ierafa ha recuperato tutti quanti alle condizioni ottimali Ma lei il cambio Paghera-Falletti avrebbe fatto Paghera al posto di Falletti trequartista? Ma diciamo sulla questione dei ruoli non... Certo andiamo a vedere se è una cosa, io non so se è fatto male Falletti Non so per quale motivo oppure vuole... Ma l'avrebbe fatto o no lei? Ma bisogna vedere condizioni come so perché voglio dire Se l'ha fatto si vede che ha reputato necessario farlo Certo per caratteristiche dei due giocatori Diciamo come se dice a Terni, no? Già è stato detto, no? Ha legato lo porco per Enese Porda Però ha preso un punto e ti dico la verità Sono anche convinto di una cosa Che se abbiamo la possibilità di poter competere a un certo livello Scusa un attimo eh Se possiamo competere a un certo livello Secondo me questo è perché mi ricorda il vecchio Clacona Ma io la voglio dire così Pareggio della Terniana in casa del Sud Tirolo Scuola scorbutica Scuola scorbutica direi un buon pareggio Alla fine è stata una partita sporca diciamo Non chiuso a stare con la stazione Però il Sud Tirolo erano sette partite che non perdeva in casa Dunque direi che alla fin fine Tanti dicono no, mi pareggio non è dispiaciuto Hanno sbagliato pure qualche gol Hanno sbagliato dunque alla fine fine Stiamo sempre lì insomma Quattro e quindici Abbiamo cercato di stare ecco L'ho accaduto con il playoff insomma Poi ecco Speriamo da vincere con il Como Però per me la vedo bene insomma Non la vedo con su per gli annarilli direi Assolutamente Forse siamo un po' spuntati in questo periodo Forse in attacco Però mancano anche i Fabilli Donna Roma Ci mancano Ci mancano gli attaccanti insomma Speriamo che rientrano Di fare qualche incolle insomma Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti